bella tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo contest io sono xuber allora amore mio è un po che non facevamo un contest per questi ragazzi è un po sì perché si iscrivevano ma non riuscivano a raggiungere il nostro limite è vero ragazzi ve lo ricordo ancora una volta noi ogni tot iscritti regaliamo un buono da 10 euro siete voi che dovete riuscire ad arrivare al numero di iscritti necessari ogni giorno se ne volete uno ogni giorno oggi ce l'avete fatta sono riusciti meno male e quindi ragazzi vi ricordiamo dovete commentare sotto questo video con la parola segreta che la pamina vi dice adesso afro rambo mi raccomando ragazzi afro rambo vale un commento solo se no non verrà conteggiato mi raccomando ragazzi siate presenti in live alle ore 10 l'estrazione ok siate presenti un commento solo e ovviamente che vinca il migliore noi ci vediamo qua siamo qua in live ciao 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 ciao